Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano la cultura del vino. Il vino protagonista su Dimensione Suonosoft, con noi Luciano Mallozzi, docente dei corsi della Fondazione Italiana Sommelier. Cosa vuol dire quando una viticoltura viene detta eroica? Beh, trattasi di viticoltura dove gli sforzi che occorrono per coltivare la vita sono veramente molto molto impegnativi. Abbiamo vigne verticali a strapiombo sul mare, dove spesso si utilizzano teleferiche per trasportare le ceste di uva. Tutto intorno però c'è un paesaggio di fasce terrazzate straordinarie, costituite da scale e muretti che spesso danno le vertigini. I posti più belli per fare questo tipo di viticoltura, che è veramente molto molto dispendiosa in termini di energia e di economia, sono ad esempio le Cinque Terre, Furore, la Costa Marfitana, il Coglio Friulano, l'Isola Dischia, la Valle d'Aosta, la Valtellina. Insomma, posti straordinari ma dove l'uva fa fatica a essere raccolta. Grazie Luciano Mallozzi, un nuovo appuntamento con La Cultura del Vino, venerdì prossimo alla stessa ora su Dimensione Suono Soft.